Siamo molto contenti di avere qui in studio con noi il presidente di AROP, Roberto Romagnoli. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E grazie insomma di essere venuto fino in radio a trovarci perché insomma incontrare AROP è sempre un piacere. Tante volte avete già fatto parte delle nostre trasmissioni perché l'impegno che viene profuso proprio dall'associazione è fondamentale. Io vorrei ricordare a quei pochi che ancora non sanno AROP, grazie a te Roberto, che cos'è, qual è la sua attività, qual è l'impegno di tante famiglie. Certo, credo che sia giusto iniziare dicendo che AROP è un'associazione costituita da genitori, fondata e costituita da genitori. Dico questo perché evidentemente lo spirito che anima questa parte della solidarietà e del volontariato è diverso dal punto di vista anche proprio formale. Quello che noi facciamo ormai da 15 anni è quello di essere a fianco delle famiglie che sono in ospedale. L'oncologia pediatrica, oltre ovviamente a coinvolgere il bimbo o il piccolo ammalato, coinvolge un nucleo familiare. E noi che abbiamo vissuto questo percorso ci siamo proposti in questi anni di migliorare prima di tutto la qualità della vita del nucleo familiare. E lo facciamo attraverso tante iniziative, piccole e grandi, a iniziare dai festeggiamenti di un compleanno di un bambino sino ad arrivare a finanziare l'intervento di medici specialistici, personale che all'interno del reparto ha aiutato lo staff ospedaliero a fare progressi. Abbiamo contribuito in questi anni a portare il reparto ad un centro di eccellenza nazionale che ovviamente significa dare un percorso terapeutico migliore, una qualità della vita migliore per tutto il nucleo familiare. Roberto ci ricordi anche un po' probabilmente tu li hai i dati che riguardano il nostro reparto proprio di oncoematologia pediatrica un'eccellenza dobbiamo dirlo perché questo è fondamentale ma allo stesso tempo anche proprio i numeri dei bimbi che insomma vivono questo momento di malattia così grave come dicevi insieme alle loro famiglie. È inevitabile questo? Due velocissime precisazioni. Il centro è un centro di eccellenza grazie ovviamente ai medici e al personale infermieristico che in questi anni si sono prodigati in maniera straordinaria anche crescendo dal punto di vista della specializzazione. In questo anche noi come Aropa abbiamo contribuito a sostenerli nei vari corsi che hanno fatto in giro per l'Italia. Per quanto riguarda i numeri, ahimè sono numeri sempre in crescita. Da quando siamo centro di riferimento nazionale sono aumentati i numeri dei nuovi casi. Nel 2015 avevo un dato che era di oltre 30 nuovi casi che sulla base nazionale vi assicuro è un numero che fa girare la testa perché fa veramente paura. In questo senso noi abbiamo poi da considerare che le terapie durano normalmente due anni dopo a seconda ovviamente delle malattie e della tipologia anche di reazione. Di aggressività. Esatto, della malattia. Consideriamo quindi che non è che un percorso terapeutico è terminato alla scadenza dei sei mesi o dei due anni. Per cui noi abbiamo una rotazione continua di famiglie e di bimbi che vengono nel nostro centro e grazie anche alla qualità degli ambienti, l'area bassa carica microbica e il nuovo deospital oncologico finalmente riusciamo veramente, il personale riesce veramente a derogare delle terapie e a gestire il nucleo familiare in maniera veramente, sembra strano ma molto serena. Parliamo anche di famiglie che non sono solo del nostro territorio ma vengono anche da fuori. Assolutamente, torno all'argomento iniziale, noi come centro nazionale abbiamo in questo momento un'area di intervento che va da Ravenna in giù. Infatti in questi giorni abbiamo avuto le settimane precedenti alcune manifestazioni a Piangipane, località del Ravennate dove ci siamo recati per partecipare a degli eventi organizzati dalle famiglie che ci conoscono. Abbiamo anche parecchi extracomunitari, stiamo ospitando una famiglia adesso nell'appartamento di Arop che è a disposizione di extracomunitari ma ce ne sono già capitati perché chiaramente il sistema sanitario nazionale non fa nessun tipo di differenza o di discriminazione quindi per l'asle... I bimbi sono tutti uguali, le famiglie sono tutti uguali e deve essere così. Ed è così, assolutamente. Roberto, sicuramente quando arriva in una famiglia una notizia di questo tipo è un pugno nello stomaco che non si può neanche spiegare però so che proprio famiglie insieme a famiglie aiutano un po' a risollevarsi perché sono momenti in cui uno si sente devastato neanche un camion che ti passa sopra ti fa meno male. È un incubo. Io ricordo la prima settimana è stato veramente come vivere in un incubo non si riesce a capire l'importanza e la gravità di quello che sta accadendo. Mi piace molto la tua considerazione in effetti tra famiglie ci si può aiutare. Noi abbiamo vissuto un reparto che era fatto di un corridoio con due stanze in fondo dove ricordano si stava un mese o due senza vedere nessuno adesso le famiglie vivono in un'area bassa carica microbica dove comunque possono condividere dei momenti. In questo abbiamo un bellissimo progetto che verrà presentato il 23 giugno alla cena dell'SGR non ve lo anticipo semplicemente per una questione di rispetto dei tempi grazie dove noi veramente stiamo creando degli ambienti in cui le famiglie potranno avere un centro di aggregazione e potranno vivere una vita normale nella non normalità. E poi c'è da dire che c'è tutta un'attenzione nei confronti dei bambini perché sono mediamente due anni molto complicati anche per loro spesso non si riesce ad andare a scuola bisogna stare lontani da quelli che sono la vita quotidiana dei bambini e voi però date una mano a loro perché questa vita tutto sommato possa essere una vita a misura di bambino perché è fondamentale anche questo poi i bambini in questo senso sono anche capaci hanno mille guizzi Capacità di relazione fantastica Esatto Dunque noi abbiamo iniziato grazie anche al provveditorato agli studi della provincia di Rimini abbiamo attivato due anni fa un progetto che si chiama Gioca e studia in ospedale dove un certo numero di insegnanti vengono a titolo assolutamente di volontariato a fare giocare e studiare i bimbi all'interno del reparto è una cosa che a noi è piaciuta moltissimo siamo assolutamente molto contenti perché questo è un primo contributo il bambino addirittura ha la possibilità di reinserirsi nel programma scolastico una volta anche uscito dall'ospedale altra cosa che stiamo facendo ormai da qualche anno però ci abbiamo intensificato soprattutto quest'anno cercare di organizzare degli eventi al di fuori dell'ambiente ospedaliero dove coinvolgere le famiglie e i bambini adesso abbiamo questo sabato un progetto di pet therapy Esatto infatti proprio a presentarlo i bambini saranno coinvolti in una bella iniziativa sabato Roberto abbiamo scoperto un mondo fantastico un mondo fantastico che non conoscevamo nell'area della Villa Salus e abbiamo scoperto che hanno un vero e proprio parco di animali perché loro già da tempo fanno la pet therapy per alcune categorie di ammalati quindi noi ci siamo volentieri aggregati a questo progetto e porteremo questo sabato un gruppo di famiglie e di bambini a fare un giro di questo magnifico ambiente con questi animali splendidi e i bambini avranno la possibilità di vivere dei momenti di allegria con questi animali per noi è stata una scoperta quindi lo diciamo e lo viviamo con l'entusiasmo di una scoperta molto bella insieme per vivere questo momento è solo una tappa di tanti appuntamenti che proponiamo abbiamo un'altra gita organizzata sempre programmata e organizzata da Arop andremo a vedere un parco tematico a Gropparello è un parco a tema dove si vivono le avventure in costume abbiamo due pullman di famiglie con i bambini che vanno su e passeranno una giornata in questo parco tematico sempre per stare in compagnia per noi è importante lo hai detto tu prima e lo ripeto con molto piacere è importante che le famiglie riacquistino quello che può sembrare una vita normale e che in questo momento evidentemente non lo è quindi assaporare questi momenti abbiamo fatto la settimana scorsa una giornata per le mamme di Arop al Grand Hotel Leonardo da Vinci cito il nome perché ovviamente non c'è nessun problema ci ospitano gratuitamente quindi abbiamo fatto una giornata in spa con le mamme un po' di relax anche per le mamme sono quelle cose sembrano normali ma in realtà sono momenti speciali e la cosa bella Roberto vorrei che tu lo ricordassi è che anche una volta finito questo momento così drammatico nella vita delle persone la maggior parte ricordiamo in modo positivo con bambini che guariscono queste famiglie rimangono legate ad Arop rimangono poi anche legate alle famiglie che purtroppo invece hanno visto insomma un esito negativo nel percorso per i loro figli io credo che questo sia una grande forza sì lo è di fatto noi abbiamo voluto cercare di creare questi momenti che continuano anche negli anni molte sono le famiglie anche al di fuori del secondario di Rimini che continuano a seguirci a partecipare alle nostre iniziative questo ovviamente ci fa piacere l'importante è che tutto questo sia nasca spontaneo e questa cosa per noi è la normalità e ci piace condividere questi momenti d'altro canto anche noi il nostro gruppo storico diciamo dei fondatori siamo comunque cinque famiglie e continuiamo ad essere quelle cinque famiglie che si portano dietro questa cosa a noi si sono aggregati poi tanti altri genitori nel corso degli anni alcuni li abbiamo tra virgolette persi ma ci sta anche questo assolutamente normale mentre invece come giustamente dicevi tu ne abbiamo tanti che continuano a seguirci e quindi in po' questo è un po' il racconto di Arop ci faceva piacere farlo ricordando questa bella iniziativa di sabato però poi promettici dopo il 23 giugno dopo questa sorpresa di farci sapere di che cosa si tratta sarete i primi è un impegno personale perché tra l'altro è un progetto di Arop ma coinvolgerà tutte le associazioni che gravitano nell'ambito della pediatria ci fa piacere perché per noi i risultati si raggiungono con l'impegno di tutti non è una persona che arriva al gol ma ci si arriva quando ci sono un gioco di squadra e noi abbiamo delle fantastiche associazioni all'interno del reparto la prima coccola la girandola che comunque fanno parte del nostro mondo e che speriamo ma siamo certi di poter coinvolgere in questo progetto complessivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti